Se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante. È uno dei noti proverbi che compare sulla pagina Facebook Verità e Libertà, il coordinamento che raggruppa oltre 40 sigle italiane e che si sta battendo per difendere la Costituzione in un solo. Contrari agli obblighi e alle norme imposte dal governo, hanno deciso di organizzare a Roma per il prossimo 15 gennaio una manifestazione internazionale. Sarà un evento pacifico, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, ma con un chiaro obiettivo, quello di chiedere il rispetto dei diritti umani. Ce ne parla Angelo Di Stefano, presidente dell'Associazione Le Partite IVA d'Italia, promotore dell'iniziativa e coordinatore di Verità e Libertà. Vogliamo unire popolo, ha precisato Di Stefano, perché è il momento di ottenere giustizia. Contestiamo la narrazione di ciò che è legato all'emergenza sanitaria. Non si può dire al popolo italiano che l'economia sta andando avanti quando stanno chiudendo tante aziende, intere filiere stanno soffrendo, siamo alla chiusura e si parla di più 6%, si sta rinchiudendo la gente in casa, abbiamo emergenze di persone malate che non riescono a uscire dalle isole per venire nel nord, in Emilia Romagna o in Lombardia a curarsi, perché i traghetti o i aerei non gli danno la possibilità di salire se non sono bambini vaccinati o non hanno il Green Pass. Questa è la situazione. Non possiamo permettere questo, ha proseguito Angelo, perché significa togliere la libertà alla gente e si sta andando contro ogni principio sancito nella nostra Costituzione. Siamo stanchi e non vogliamo assolutamente che questo continui. Allora tutte queste sigle che hanno aderito a questa iniziativa e più tante altre che parteciperanno, ne abbiamo contate circa 120, ci riuniremo a Roma per creare un muro, un muro che vuole verità e soprattutto libertà. E l'appuntamento sarà in via all'Oceano Atlantico in zona Eur alle ore 14, ma il coordinamento invita a seguire la pagina Facebook ufficiale dove verranno comunicati eventuali aggiornamenti. Ci sono pompieri, vigili del fuoco, ci sono carabinieri, c'è gente dell'esercito, professionisti, imprenditori, c'è tutto il popolo italiano, ogni tipo di categoria, perché questa discriminazione, questo atteggiamento, questa crisi economica sta colpendo tutto il popolo. Abbiamo gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, gente sospesa, ricattati perché se non adempiono a determinate alla vaccinazione o altro, tra l'altro, giustamente è confusa, perché vorrei ricordare che nonostante la gente si fosse vaccinata, ora viene richiamata a una terza, poi a una quarta dose. Cioè la narrazione non va bene, la narrazione non è sincera, non è leale, cambia continuamente ed eppure sarà pure un sacrosanto diritto di queste persone avere paura. E invece cosa facciamo, chiede Di Stefano, le obblighiamo togliendo loro i diritti, non è questo, ha proseguito il modo di combattere una pandemia gestita poi in malo modo e adesso, ha concluso il promotore, ne paghiamo le conseguenze a livello economico, sociale e politico. E anche chi è vaccinato è contrario a vedere uno scempio tale e non può accettare questo. Noi chiediamo il ripristino dei diritti fondamentali della Costituzione, che sono il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza e che non possono essere messi all'angolo in cambio di qualcosa. Non esiste come il diritto a curarsi, non esistono né se né ma, sono diritti inalienabili e nessuno, ripeto nessuno, nemmeno il grandissimo presidente Draghi può permettere di fare questo. E noi con tutte le sigle, in maniera pacifica, dimostreremo il nostro dissenso, diremo la nostra verità.